Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. 110 evasori totali e 531 lavoratori in nero. E' questo il bilancio della Guardia di Finanza di Arezzo con le operazioni svolte nel 2023 e nei primi mesi del 2024 che sono stati resi noti dal Comando Provinciale in occasione dell'anniversario della Fondazione del Corpo. Ce ne parla Chiara Sadotti. Scoperti 110 evasori totali completamente sconosciuti al fisco ed ancora 531 lavoratori in nero e regolari, 60.000 prodotti industriali contraffatti e 24 chili di droga sequestrati. Sono questi alcuni dei risultati delle indagini delle Fiamme Gialle di Arezzo svolte nel 2023 e nei primi mesi del 2024 resi noti dal Comando Provinciale in occasione dell'anniversario della Fondazione del Corpo. In questo lasso di tempo i finanzieri hanno eseguito 376 interventi ispettivi e 250 indagini per contrastare leciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto tondo destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. I soggetti denunciati per reati fiscali sono stati 87, mentre il valore dei beni sequestrati è confiscati di 764.933 euro. Le proposte di sequestro, tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, superano invece i 16 milioni. Sono poi 11 casi di evasione fiscale internazionale scoperti principalmente riconducibili e stabili organizzazioni occulte in Italia. Sono state avanzate anche 52 proposte di cessazione di partita IVA nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. La Guardia di Finanza ha poi dedicato una particolare attenzione agli illeciti in materia di spesa pubblica. Tra i controlli che riguardano le prestazioni sociali agevolate è stato realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita percezione del rettido di cittadinanza, che hanno permesso di intercettare 482.799 euro di erogazioni indebitamente percepite ed oltre 125.000 euro di aiuti richiesti non ancora riscossi, nonché di segnalare 56 soggetti all'autorità giudiziaria per i reati di falso. Sul fronte della tutela del mercato dei capitali sono stati operati sequestri e confische di beni per un valore di 12.811.315 euro. Sette le persone denunciate in materia di riciclaggio e autoriciclaggio per un valore che supera gli 11 milioni. In applicazione della normativa antimafia, infine, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 41 soggetti ed ammonta 380.413 euro il valore dei beni proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro. Ancora cronaca, arrestato un 51enne marocchino accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. L'arresto è avvenuto lo scorso 24 giugno a seguito di un servizio di appostamento nei pressi di Largo 16 luglio ad Arezzo, zona dove alloggiava l'uomo e che, secondo quanto accertato dagli agenti, riceveva persone a tutte le ore del giorno e della notte. Sono stati proprio i suoi clienti a fornire dettagli utili agli inquirenti per l'arresto. Questi ultimi, infatti, sono stati in più occasioni sottoposti a controlli. Trovati sempre in possesso di sostanze superfacenti di vario tipo, non ci hanno pensato due volte a fornire un'accurata descrizione dell'uomo dal quale si approvvigionavano. Gli agenti hanno fatto poi irruzione nell'appartamento del 51enne e qui è stato trovato un vero e proprio laboratorio domestico finalizzato alla cessione e al consumo di sostanze stupefacenti. Recuperati anche un involucro in nylon contenenti 12,50 grammi di cocaina, un involucro invece contenente 12,7 grammi di eroina e 725 euro in banconote di vario taglio insieme a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. E due persone sono rimaste ferite questa mattina prima delle 7 in un incidente stradale. Lo scontro tra due auto si è verificato nella corsia a sud della E45 al chilometro 137 all'altezza dell'uscita di Sansepolcro. Per questo è stato attivato il 118 della Asvia Toscana sud-est e sul posto sono arrivati i soccorsi con l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro. I sanitari hanno preso in carico i due feriti, si tratta di una ragazza di 34 anni e di un uomo di 59. Entrambi sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Biturgenze. per la dinamica e il ripristino della circolazione sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E dal 1 luglio scatta il divieto di abbruciamento. Vediamo dunque le prescrizioni previste. Dal 1 luglio al 31 agosto, salvo proroghe, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Negli stessi due mesi è vietata anche qualsiasi accensione dei fuochi ad esclusione della cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi comunque vanno osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione Toscana, in collaborazione con il consorzio LAM-CNR-IBE, ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi sul territorio toscano per determinare giornalmente il livello di rischio di sviluppo e propagazione ed emettere il relativo bollettino pubblicato sulla home page della Regione Toscana. Alle quattro classi di rischio sono associati altrettanti colori che per ogni singolo comune della Toscana consentono di visualizzare immediatamente il livello di pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi. Oltre al monitoraggio del rischio, il bollettino ospita una sezione che evidenza i comportamenti corretti che ciascuno di noi deve tenere, sia per evitare l'innesco di un incendio forestale che nel caso di avvistamento di un principio di incendio. In questo caso l'invito è segnalarlo tempestivamente al numero verde 800 425 425 della Sala Operativa Regionale Antincendi Boschivi o al numero di emergenza unico europeo 112. Adesso parliamo di un intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sul fosso di Campitello. I grossi massi rotolati nell'alveo staccandosi dal costone sovrastante nel tempo si erano trasformati in un minaccioso pericolo idraulico per il fosso di Campitello nel comune di Poppi. Le dimensioni e le quantità del materiale presente in località Beccarino infatti rischiava di ostruire il corso d'acqua con possibili e pesanti conseguenze per le famiglie che vivono nella zona. Pensare ad uno spostamento è apparso fin dall'inizio estremamente complesso. Impossibile in particolare pensare di impiegare mezzi meccanici tradizionali proprio per allontanare i massi incastrati tra le abitazioni e il pendio montano. Dopo una serie di valutazioni ecco la soluzione inedita che ha portato ad un intervento a dir poco spettacolare ma soprattutto ad una soluzione efficace e rapida dai costi ambientali e operativi più contenuti. Il ricorso ad un martello demolitore pneumatico che ha permesso di ridurre le dimensioni del materiale direttamente sul posto per essere poi successivamente utilizzato nella sistemazione dei gabbioni presenti nel tratto che necessitavano peraltro di un profondo restyling. Per la sistemazione del corso d'acqua sono stati investiti complessivamente oltre 25 mila euro. E adesso torniamo ad Arezzo parliamo della giostra del Saracino che riceve dal Ministero del Turismo un contributo pari a 80 mila euro nell'ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Il bando al quale la giostra del Saracino ha partecipato in qualità di manifestazione inserita all'interno del calendario delle rievocazioni storiche della Regione Toscana mira a sostenere tutte quelle manifestazioni di rievocazione di interesse nazionale e internazionale di particolare impatto turistico. E in questo caso e in questa occasione la giostra del Saracino è riuscita ad intercettare risorse economiche tra le più alte assegnate. Già lo scorso anno il comune di Arezzo partecipando al bando per l'assegnazione del contributo aveva ricevuto la compartecipazione del Ministero di 40 mila euro. Quest'anno l'importo assegnato è pari al doppio così come doppia è la soddisfazione da parte degli organizzatori per il risultato raggiunto. E adesso parliamo di politica e spostiamoci in Val di Chiana, primo consiglio comunale del nuovo sindaco di Palma a Morciano della Chiana. Vediamo il servizio. Nei primi cinque anni non abbiamo finito di fare tutte le cose che avevamo programmato, che avevamo in programma, quindi finire innanzitutto le cose che avevamo programmato e poi entrare, addentrarci subito nei nuovi progetti. e quindi bisogna andare chiaramente con passo veloce per quanto sia possibile perché nella pubblica amministrazione i tempi sono molto più lenti. Maria De Palma alla guida del comune di Marciano della Chiana per altri cinque anni si è infatti insediato il nuovo consiglio comunale. Ho scelto i miei assessori, ma diciamo ho cercato di dare continuità a questa squadra, questo sicuramente, però qualche piccolo cambiamento anche in funzione non solo dei voti che sono stati presi perché non ho tenuto in considerazione quello, perché coloro che si presentano vengono votati ad essere consiglieri comunali e non assessori. Gli assessori sono di mia competenza e chiaramente ho scelto le persone che secondo me avevano una visione come la mia di quello che deve essere il futuro del nostro territorio. La squadra della prima cittadina è stata riconfermata per un nuovo mandato. Monica Cardini nel ruolo di vice sindaco con deleghe a bilancio tributi e finanza personale partecipate. Gli altri membri della giunta includono la riconferma di Leonardo Maggi come assessore allo sport, sociale, pari opportunità. Jonathan Salvietti, assessore alla cultura, turismo, scuola, innovazione e tecnologica. Nuovo membro della giunta è invece Lido Zappalorti, assessore all'ambiente, agricoltura, protezione civile ed associazionismo. Restiamo in Val di Chiana, andiamo a Cortona in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'ecidio nazifascista di Falsano e per celebrare la liberazione di Cortona si terranno due iniziative pubbliche patrocinate dall'amministrazione comunale a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. La prima è domenica 30 giugno proprio a Falsano dove si terrà la celebrazione religiosa celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca con la partecipazione della corale laurenziana. L'appuntamento è alle 15 nella chiesa del paese e seguiranno poi la deposizione di Corona dall'oro al monumento delle vittime dell'ecidio. Il saluto delle autorità e la consegna di un dipinto di Raffaello Lucci al vescovo Migliavacca. Il pomeriggio si concluderà con una merenda campagnola. Domenica 7 luglio si terrà invece la celebrazione della liberazione di Cortona. Alle 10.30 ci sarà la deposizione delle corone ai caduti di tutte le guerre. Alle 11 al teatro Luca Signorelli invece si terrà la conferenza Cortona e la liberazione con relatori Valdospini e Mario Parigi e con la partecipazione degli studenti della scuola superiore Luca Signorelli di Cortona. Infine alle 21 alla concattedrale di Santa Maria Assunta si terrà il concerto di Gabriele Agrimonti con l'organo Ducci del 1839. E torniamo ad Arezzo perché sabato 6 luglio torna Shopping Sotto le Stelle su iniziativa della ConfCommercio il servizio. Acquisti, musica, divertimento e cene all'aperto sotto il luminoso cielo d'estate. Sabato 6 luglio in occasione del primo giorno dei saldi estivi torna ad Arezzo la magia di Shopping Sotto le Stelle. Una serata tutta da vivere con sconti e promozioni in oltre 300 attività del centro storico e poi scuole di ballo, animazioni, spettacoli. Davvero una serata da non perdere nel centro storico di Arezzo su iniziativa di ConfCommercio. Con oltre 300 attività coinvolte il centro si trasformerà in un grande festival aperto con negozi aperti fino alla mezzanotte, aperitivi, DJ set, musica, intrattenimento e cene sotto le stelle. È un momento molto importante, è l'inizio dei saldi. I saldi, come sappiamo, durano 60 giorni a partire dal 6 di luglio e proprio nei primi 15 giorni dell'inizio dei saldi è il momento diciamo clou. Per cui insomma con questo evento noi vogliamo dare una spinta all'inizio dei saldi e soprattutto far sì che le persone che vengano in centro per fare dei acquisti possano trovare anche dei momenti di divertimento e rimanere ancora di più e sostare di più in centro e divertirsi. Torna anche la notte dei colori con il lancio di oltre 2000 palloncini a tempo di musica e poi fiesta latina e spettacoli danzanti. Quindi occasione di sì acquisto, sì affari per i commercianti del centro ma anche un'occasione di socialità per la gente che in quel sabato verrà in centro e approfitterà oltre che dei saldi anche delle iniziative molteplici che sono previste in questa occasione. Novità di quest'anno la collaborazione con Casa Bruschi per promuovere l'arte e la cultura con il traino dello shopping. Chi farà acquisti nei negozi del centro durante la serata potrà infatti presentare lo scontrino al museo per visitare al costo speciale di un euro la mostra La Libera Maniera, arte astratta ed informale, nelle collezioni di Intesa San Paolo. E sempre ad Arezzo una mostra dedicata alle logge Vasari nel Palazzo di Fraternita. Vediamo. Noi apriremo durante l'estate, durante questo mese di luglio ed agosto, questo palazzo secolare affinché tutti gli aritini possano venire a vedere questa straordinaria mostra che racconta la costruzione delle logge del Vasari, il più bel monumento della città di Arezzo. Dai primi documenti sulla genesi delle logge Vasari al celebre modellino in legno dell'opera commissionata dai rettori a Giorgio Vasari ed ancora altre preziose testimonianze sulla vita dell'artista come ad esempio l'atto di battesimo. Nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande una mostra per raccontare il Vasari architetto. È stata un'occasione anche per riscoprire Vasari che è stato nominato rettore della Fraternita dei laici nel 1571 che erano proprio gli anni nei quali prendevano vita le logge ed è stato un viaggio particolarmente affascinante, quasi un diario di bordo perché i documenti che noi abbiamo ci hanno permesso di vedere il cantiere quasi da vicino, cioè quindi capire il tipo di operazioni che venivano svolte all'interno dell'area che era stata prescelta già nel 1570 per edificare i materiali utilizzati, i costi, come si è operato e questo è stato veramente un modo di riscoprire una storia che riguarda Arezzo ma non solo Arezzo, riguarda Vasari architetto più in generale. Onorata e graziosa la loggia di Giorgio Vasari. E in più abbiamo queste bellissime foto di epigrafi perché era un problema portarle qui in Fraternita che sono conservate nel museo archeologico di Arezzo e che abbiamo appunto proposto perché erano state inserite fino alla metà del Settecento all'interno dei pilastri delle loggie Vasari per ricordare la storia e le memorie di Arezzo. Quindi diciamo che l'edificio non ha soltanto un valore urbanistico ma anche un valore politico molto forte nel momento in cui Arezzo in quegli anni era dominata dai fiorentini. L'allestimento valorizza il vasto repertorio cartaceo della Fraternita con particolare riguardo alla costruzione delle loggie che nel XVI secolo costituirono per Arezzo un vero e proprio rinnovamento urbanistico. È stato un uomo rinascimentale, un genio rinascimentale come tale ha espresso tutte le sue potenzialità nella pittura appunto nell'architettura, nella scrittura e oggi noi lo celebriamo. Questa è un'altra, un altro gradino nella scala che ci porterà poi al pianerottolo dell'inaugurazione della mostra presso la Galleria d'Arte Contemporanea nell'ottobre che sarà il sugello finale dell'anno vasariano perché come ho sempre detto, mi fa piacere ripeterlo, questo non è la mostra di Vasari, è l'anno di Vasari. Tutto l'anno per gli aretini è una ricorrenza continua e costante per ricordare questo grande aretino. La mostra sarà visitabile sino al 2 febbraio 2025 e tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.00. Tra l'altro la inauguriamo in un giorno particolare perché oggi cade il 27 giugno del 1574, guarda caso è proprio il 450esimo anniversario. Quindi a maggior ragione abbiamo scelto insieme di comune accordo di farlo qui in Fraternita perché come diceva il rettore prima, qui è conservato per l'appunto il testamento di Vasari che dona poi tutti i suoi beni proprio alla Fraternita dei Lasci. Un nuovo appuntamento con il Passioni Festival, protagonista lo scrittore Sergio Rizzo. L'estate è a rettina entra nel vivo con il Passioni Festival. Dopo l'apertura dedicata a Giorgio Vasari, protagonista in fortezza è stato il giornalista e saggista Sergio Rizzo che ha presentato il suo ultimo libro intitolato Io so io, come i politici sono tornati ad essere intoccabili. Una denuncia verso una certa politica diventata oligarchia, insaziabile. Bisogna sperare che le persone ci facciano qualche ragionamento sopra perché se continuiamo così non so alle prossime elezioni politiche quanta gente andrà a votare. Il punto è quello, questo sistema politico completamente spappolato dove, come diceva Berlinguer, andrebbe sempre citata quell'intervista data a Scalfari nel 1981, quando lui disse che i partiti sono ridotti a macchine di potere di clientela nel 1981. Ebbene, se siamo in questa situazione la democrazia poi a un certo punto ti presenta il conto. Ci sono dei fatti lì dentro che da soli avrebbero dovuto provocare un'insurrezione, un movimento di piazza, ma non succede niente. Allora perché non succede niente? Io ce l'ho una spiegazione. Non succede niente perché oggi l'indignazione popolare nei confronti della politica che non funziona ha assunto un'altra forma, è quella dell'assenzione. Non vanno a votare. Fine. E adesso passiamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio perché la Lega Pro ha reso nota la composizione ufficiale dei tre gironi del prossimo campionato. Sono tre le squadre B che vi prenderanno parte. Oltre a Juventus Next Gen e Atalanta Under 23, presenti anche l'anno scorso, si è aggiunta Milan Futuro, la cui iscrizione è stata ratificata ieri dal Consiglio federale al posto dell'Ancona bocciata dalla Covisoc. In base al regolamento barato dal FIGC le squadre B sono state inserite in tre gironi distinti tramite sorteggio. Quindi la Juventus è finita nel girone C, l'Atalanta nel girone A e il Milan nel B con l'Arezzo. Nel girone centrale anche il Legnago. Dunque nel girone B insieme all'Arezzo ci sono Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ponte d'Era, Rimini, Sestre Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro. E restiamo a parlare di calcio perché ci sarebbe anche la New Energy, la società per azioni proprietaria dell'Arezzo, tra i soggetti interessati a far ripartire il calcio ad Ancona dopo la mancata iscrizione al club dorico della Lega Pro. Lo riporta il Corriere Adriatico nell'edizione di questa mattina, secondo cui i contatti sono stati confermati e ci sarebbero valutazioni decisive in corso proprio in queste ore. Ma a stretto giro di posta è arrivata la smentita proprio da parte di Manzo. Smentisco che ci sia l'interesse a partecipare al bando del comune di Ancona per l'assegnazione del titolo sportivo della nuova società del capoluogo Marchigiano dice appunto Manzo e ribadisco che tutte le energie mie e della mia famiglia sono focalizzate nel rendere la squadra dell'Arezzo una squadra e una società capace di competere per traguardi importanti. E questa era la nostra ultima notizia e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Buonasera. Grazie.